Sostanzialmente abbiamo aperto stamattina un primo tratto, noi sostanzialmente spostiamo la sosta verso il centro della strada creando una ciclabile tra il maciapiede e la sosta. Questo sicuramente dà maggiore sicurezza ai ciclisti, permette quindi a molti cittadini che non potranno usare il mezzo pubblico, Milano portava 1.400.000 persone in trasporto pubblico un giorno in metropolitana, con le giornate come oggi ne portiamo 300-350, dobbiamo trovare diverse cose alternative. Il contributo delle due ruote, bici anche moto, non dimentichiamo che noi col progetto in corso Venezia abbiamo raddoppiato il numero di parcheggi moto e questo è importante perché dobbiamo dare anche a questo mezzo che occupa meno spazio una sua possibilità. Quindi noi diciamo in strada dobbiamo starci tutti, questa esperienza del coronavirus si dice questo, non possiamo usare un solo, non c'è una soluzione, esistono diverse soluzioni che dobbiamo mettere insieme. Questa è la ricerca, proviamo, si fanno solo in segnaletica quindi si possono fare anche cambiamenti. Ecco no, perché diciamocela la verità, il rischio è che il traffico possa diventare una cosa monumentale, che possa bloccare la città, perché se non si va con i mezzi e si va in macchina, Milano si ferma. E certo, noi dobbiamo fare in modo che chi invece ha bisogno dell'auto, ma io penso a tutte le consegne merci, a tutti gli elettricisti, riparatori, manutentori, chi deve fare assistenza domiciliare, insomma tutta una platea di attività importanti, di lavori che hanno bisogno del mezzo a quattro ruote, dobbiamo farli andare e farli andare a buona velocità. I taxi devono andare a una velocità commerciale che consente di portare le persone in un tempo utile. Quindi non si tratta di dire non vogliamo le macchine, si tratta di dire il mezzo a quattro ruote è un mezzo che è essenziale per la città, non possiamo pensare che tutti usino quel mezzo perché altrimenti fisicamente saremmo tutti imbottigliati. E quindi chi può è bene che vada con la moto, meglio lo scooter elettrico. Non c'è la possibilità di potenziare in numero davvero, ed è l'ultima domanda, purtroppo il tempo sta finendo, potenziare in numero davvero i mezzi pubblici? C'è più autobus, più carrozze di metropolitana, più treni? Noi siamo al 100%, anzi in qualche momento abbiamo inserito qualcosina di più, ed è il massimo che stiamo facendo, è proprio anche qui un discorso di capienza. Certo, possiamo ulteriormente, per potenziare bisogna avere nuovi mezzi e bisogna anche avere risorse per il trasporto pubblico. Il trasporto pubblico a Milano costa per funzionare 800 milioni all'anno. Ecco, sono discorsi che non si riescono a fare nel brevissimo periodo.